Ciao a tutti, bentornati sul canale AmogliItaliani.In rete si narrava quasi con certezza che Alfonso Signorini avrebbe invitato in studio Massimiliano, Anita, Giuseppe, Rosi e la fidanzata di Paolo in studio per un televoto per la mancata empatia dimostrata a Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023 Non è stato così. Letizia Petris era furiosa di rivederla, ha pianto Proprio lei, che tra il gruppetto di hater di Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi e il resto dei fuori dal coro di Cinecittà, come anche Stefano Miele e Sergio Dottavi, sembrava essere la più carina con Beatrice Luzzi si è rivelata la meno felice del suo ritorno al Grande Fratello 2023 Letizia Petrisieri. Il pubblico l'ha visto.Grande Fratello, tutti contro Letizia, cosa ha fatto a Beatrice? Già mentre Beatrice Luzzi era fuori, la 24enne aveva parlato di un possibile ritorno, che a suo avviso non sarebbe stato corretto Dipende da come sta lei? Ok, però, se lei è forte magari rientra Ma non sarebbe giusto, capite? Mettete da parte il cuore. Ti andrebbe bene? Una settimana fuori è molto Ha avuto a che fare col fuori. Non era mica chiusa in ospedale Lei ha visto ed ha parlato con altri, aveva detto giorni fa Infatti ieri è sembrata tra i più contrariati del rientro della coinquilina, che aveva provato ad essere carina Ieri Alfonso Signorini ha spiegato perché il rientro dell'attrice fosse possibile e non contro il regolamento Si potrebbe dire che il Grande Fratello 2023 non tiene isolati come prima Adesso dura sei mesi e in tutto questo tempo può succedere tutto Un lutto va oltre la logica del gioco ed in passato abbiamo permesso di tornare Milena Miconi ha perso un amico, è uscita e tornata Antonino Spinalbese è stato in ospedale, è rientrato dopo 14 giorni Ho sentito Beatrice, dopo valutazioni, ha scelto di tornare, ha detto in diretta Siamo in due ora, aveva detto Beatrice Luzzi a Letizia Petri sieri sera abbracciandola Voleva essere un gesto carino, un gesto simile con Anita, che si è tradita commuovendosi Non la sopporto, ha toccato il mio punto debole, invece è stata la reazione, all'orecchio di Paolo La frase intendeva che da oggi in poi condividevano un dolore Ma Letizia è scoppiata a piangere e da lì ha guardato male l'altra e i fan l'hanno notato Che cattiveria non sta bene questa, reazione insensata, spaventosa, è odio Neanche per la lettera al padre si è commossa, quanta solidarietà e sensibilità, è la peggiore lei Si legge su Twitter Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video